Il Cammino Grande di Celestino da Roma a Viest, il Parco Nazionale della Maiella con il suo presidente Lucio Zazzara, con il presidente della Regione Marsiglio, quello del Consiglio regionale Sospiri e il sindaco dell'Aquila Biondi, ha presentato all'emiciclo il Cammino Sacro del Mediterraneo sulle tracce del Papa Eremita, un progetto nato nel 2018 per iniziativa del parco ma che si arricchisce di nuovi capitoli. Il Cammino attualmente ha solo 90 km in sei tappe, con partenza da Sulmona e arrivo a Serra Monacesca, ricalca i sentieri che Pietro da Morrone usò per spostarsi da un eramo all'altro. Il Cammino ha avuto un successo notevole, così il parco ha ideato il progetto del Cammino Grande di Celestino, con un tracciato più lungo che volgerà il suo sguardo a Colle Maggio e ancora il Cammino vuole giungere sino a Viest, dove Pietro, dimessosi da Papa, intendeva imbarcarsi per la Dalmazia, un progetto che concentra su uno stesso itinerario tre riconoscimenti UNESCO. Passeremo da 90 a 160 km molto presto e contiamo, avendo già dei riscontri positivi, di andare presto ad una collaborazione con partner extra-regionali per mettere a disposizione dei camminatori tutto quanto il percorso da Roma a Vieste. Il progetto è molto ambizioso e vede la giunta di numerose tappe e il coinvolgimento di altre aree protette abruzzese e di fuori regione. In definitiva quattro regioni coinvolte, 60 comuni e oltre 570 km di tracciato, 90 già fruibili. Gli step di realizzazione sono questi, percorso l'Aquila sul Mono a Primavera, Roma l'Aquila sempre nel 2022 e nel 2023 Serra Monacesca a Vieste. I viaggiatori che intraprendono il cammino hanno a disposizione la credenziale del Pellegrino, che potrà essere firmata nei punti del parco per ricevere una volta completato il testimonium, che certifica l'intera percorrenza delle tappe. Si sta pensando anche a dei percorsi in bike. È una bellissima iniziativa che il Parco Nazionale della Maiella porterà avanti insieme con la regione Abruzzo, all'interno dei fondi già presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destinano risorse importanti per queste infrastrutture turistiche, ecologiche e che per noi sono un'azione di grande marketing attrattivo per la nostra regione. Pertanto siamo particolarmente soddisfatti che questa linea, che tra l'altro il Consiglio regionale ha tracciato, trovi partner per continuare ad arricchirsi e andare avanti.